un saluto a tutti da parte del sottoscritto francesco cerulo del team visionforex.info martedì 20 luglio 2021 sono da poco passate le 8 del mattino video presto di questa mattina per quanto riguarda tutto quello che è accaduto ieri un lunedì davvero in rosso i mercati finanziari e allora l'interrogativo di tutti è partita l'inversione crolla tutto la variante delta fossero ai mercati finanziari beh proviamo a scoprirlo all'interno di questo video ma prima vi ricordo che vi potete iscrivere all'interno del nostro canale youtube qua sotto il tasto di iscrizione potete attivare anche quelle che sono le notifiche per non perdervi neanche uno dei nostri video pubblicati e ora andiamo subito nel merito di questo video per quanto riguarda tutto quello che è accaduto ieri sui mercati finanziari operatori che sembra essersi svegliati improvvisamente con il pericolo variante delta allora partiamo subito con una carrellata di screenshot dei principali siti e quotidiani finanziari internazionali CNBC USA titola appunto il Dow Jones perde circa 700 punti per quella che è la ripresa dei casi covid si allinea anche successivamente il Wall Street Journal che addirittura va a evidenziare il 900 punti di calo del Dow Jones in intraday e poi anche il Financial Times si allinea con quello che è appunto un mercato in discesa per quanto riguarda ancora una volta la variante delta ma oltre a questo anche il crollo del petrolio e qua vi rimando invece al video pubblicato ieri da parte di Giuseppe Roccasalvo in cui fa un approfondimento specifico sul petrolio l'unica cosa che dico che qua domanda ed offerta sembrano vincere ancora una volta la partita nel senso che proprio nella giornata di ieri dato relativo o meglio una risoluzione per quanto riguarda lo stallo nei rapporti tra i paesi produttori o meglio sulla produzione in concomitanza appunto di questo pericolo variante delta e quindi domanda che potrebbe incidere o meglio scendere e da questo punto di vista domanda ed offerta la risultante questa ma vi invito ancora una volta andare a rivedere quel video perché c'è un approfondimento specifico molto molto interessante beh non c'è soltanto tutto questo meglio è vero si sconta qualcosa ma voglio andare subito a riportare quelle che sono i dati di questo sito www.statistichecoronavirus.it è un sito piuttosto interessante ben fatto con alcuni difetti lo capirete tra pochissimo ma che raccoglie praticamente tutti i dati relativi ai contagiati ai guariti e così via di tutto il mondo allora andiamo subito con i tre le tre macro aree scusate europa asia e america e come possiamo vedere situazioni diverse per quanto riguarda appunto l'andamento negli ultimi 30 giorni dei contagiati e dei guariti contagiati in linea arancio guariti in linea verde per ogni specifico grafico ecco il difetto di cui vi parlavo in precedenza adesso lo evidenzierò perché appena arrivano i dati il grafico si allinea se non arrivano i dati le linee tendenziali vanno tutte a zero e questo ovviamente è un po' forviante perché sembra quasi uno scenario idilliaco per quanto riguarda la cancellazione del coronavirus ma quello che voglio infine mostrarvi è questa differenza tra le tre macro aree con la distanza tra guariti e contagiati in europa siamo messi un po peggio si restringe il tutto in asia e addirittura va meglio proprio nel continente statunitense nel continente americano scusate perché lì addirittura ci sono dei giorni in cui i guariti superano i contagiati insomma situazioni diverse ma tutto questo ci riporta ai mercati finanziari ovviamente e qua vi mostro quella che invece la mia watchlist o meglio una parte della mia watchlist che raccoglie un po' tutte le asset class da al forex agli indici alle materie prime e così via mi voglio concentrare settore per settore per capire quello che è accaduto nella giornata di ieri allora partiamo dal settore fx e quindi forex ritroviamo innanzitutto una sterlina in debolezza nonostante appunto nella giornata di ieri sia stato il freedom day in uk e scusate se quasi ci faccio la rima ma appunto il mercato sembra aver quasi punito un po' quelle che potrebbero essere le prospettive di miglioramento dell'economia in regno unito ma c'è stato anche un apprezzamento di yen con la discesa conseguente di dollaro yen a 109 50 insomma mezzo punto percentuale perso ma tutto questo a fronte di comunque sia un dollar index che non cede non perde terreno anzi si rafforza leggermente rialzo frazionale verso area 93 e la sfiorata tra l'altro nella giornata di ieri quindi prima panoramica sull'fx dollaro mettiamolo lì che poi ci ritorniamo andiamo sul settore listini perché dall'asia all'europa agli stati uniti profondo rosso lo possiamo vedere appunto da tutti quelli che sono staticali e poi ovviamente per quanto riguarda l'equity schizza alle stelle la volatilità con il vstox e il vix che ovviamente fanno performance davvero stellari in tutto questo ritorniamo al petrolio meno 7 punti percentuali praticamente alla chiusura di ieri è un gold che nonostante tutto nonostante la forza di dollaro riesce a mantenersi al di sopra di area 1800 dollari in tutto questo contesto non ho parlato di un'altra asset class quella obbligazionare ma voglio fare riferimento solo e soltanto al t note statunitense il suo rendimento è sceso ieri di circa 8 punti percentuali all'1 e 19 per cento cosa un po strana mi avrebbe da definirla così perché perché se tutto dovesse peggiorare è chiaro che i mercati gli operatori dovrebbero scontare che cosa bene questo ci ha raccontato la storia degli ultimi mesi una banca centrale accomodante sia essa appunto la federal reserve bce così via quindi listini quindi che potrebbero beneficiare di questo scenario a fronte di un indebolimento particolare se facciamo riferimento agli stati uniti all'indebolimento di dollaro statunitense e si a una discesa dei rendimenti del t note perché appunto la politica dovesse della banca centrale potrebbe appunto ripercuotersi su tutti queste asset class in questo modo almeno la storia recente ci ha raccontato questo ieri non è accaduto niente di tutto questo un dollaro che fa da outsider completamente che si rafforza e soprattutto listini anche che perdono terreno per scontare quelle che potrebbero essere pericoli per l'economia ma in tutto questo invece la fiducia continua ad esserci nel settore obbligazionale nel senso che gli acquisti continuano ad esserci con un conseguente indebolimento o meglio una discesa dei rendimenti del t note o meglio il rendimento del t note insomma qualcosa c'è che non va allora per capire un po' cercare anche di chiudere questo video con una breve analisi tecnica faccio una carrellata sulle principali asset class mettendo e menzionando anche un'ultima asset class cripto valute che stanno ovviamente vivendo un ulteriore periodo difficile prima di partire con la carrellata dei grafici vado spedito è semplice recap per quanto riguarda questo video vi chiedo se vi piace questo video ovviamente mettete un bel like io ovviamente porto subito con i grafici per quanto riguarda immediatamente l'S&P 500 ovviamente discesa importante tre aree di riferimento principali 4,230 4,130 4,020 punti la prima tra l'altro testata nella giornata di ieri poi sul closing un breve recupero quindi fate attenzione eventuali discesa al di sotto di queste aree perché si potrebbe scendere a scale appunto o meglio con l'ascensore su tali livelli nasdaq 100 qua siamo andati over 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 le stelle 15.000 punti sfiorati discesa importante ma l'area principale quella intorno ai 14.000 punti 14.040 13.900 punti l'area focus principale per capire se il mercato high tech statunitense potrebbe vivere nuove giornate molto bullish o alcune giornate un po' più bullish andiamo invece sul settore Europa che è andato un po' peggio ieri anche a seguito di quelle che erano un po' i grafici sulle statistiche del coronavirus dax qua faccio un ulteriore appendice perché perché semplicemente abbiamo fatto un video alcune settimane fa per quanto riguarda alcuni livelli chiave lo potete trovare all'interno appunto nel nostro canale youtube e mettevamo proprio l'attenzione su due livelli in particolare quelli sottolineati anche in questo grafico e cioè 15.500 punti e l'area appunto dei 15.280 punti bucata la stessa l'area fondamentale a mio modesto avviso per il dax è l'area dei 14.800 punti anche per quanto riguarda gli ultimi due tocchi fatti sul mese di aprile da parte delle quotazioni nostro mercato è qua ovviamente un po' mi verrebbe da dire un po' smentite le velleità rialziste del nostro listino speramente che riprenda quota perché superati 24.000 25.000 punti si puntava verso i 26 27 insomma una corsa inesorabile del nostro listino anche per il miglioramento per quanto concerne un po' l'economia in sé dell'Italia e tutto quello che riguarda la politica beh retromarcia lenta retromarcia effettivamente dagli ultimi massimi realizzati praticamente a maggio ma soprattutto nella giornata di ieri rotto a ribasso il primo riferimento importante 24.400 punti attenzione perché il prossimo prodotto possibile potrebbe essere quello dell'area 23.500 punti rotti questi ultimi riferimenti si potrebbe scendere in maniera violenta anche verso l'area 22.350 punti in una sorta appunto di spirale ribassista che potrebbe appunto vedere un'accelerazione vero pericolosa per le quotazioni questa è un po' la panoramica per quanto riguarda i principali indici che magari appunto tutti quanti voi tenete sott'occhio infine appunto criptovalute o meglio bitcoin perché è qua ovviamente tanto materiale sul nostro canale youtube e qua proprio questa mattina rotti a ribasso l'area dei 30.000 dollari è un'area molto molto importante vi invito a rivedere un po' gli ultimi video realizzati anche da giuseppe quindi particolare attenzione perché anche le criptovalute sembrano scontare un po' di pessimismo da parte degli operatori e qua chiudo ovviamente la carrellata dal punto di vista puramente tecnico con alcuni riferimenti io ovviamente voglio sentire la vostra opinione scrivete all'interno dei commenti chiudo qua questo video se vi è piaciuto mettete un bel like qua sotto trovate in descrizione tutti i nostri riferimenti per potervi iscrivere al nostro canale telegram al nostro sito web e poi ovviamente al nostro canale youtube sempre qua attivi più che mai stay tuned vi ringrazio anticipatamente e vi aspetto al prossimo video auguro a tutti una buona giornata hai trovato la nostra diretta interessante iscriviti al nostro canale youtube attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news grazie e buona giornata